Vento assente, cielo seremo, procedere al controllo del veicolo. Obbatoi pieni, motori accesi. Pronti per la patenza? Procediamo al controllo del rovescio. Motori al massimo, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, perdiamo! Buonasera, sono la giornalista Europa. Per la prima volta, un veicolo spaziale pilotato da un italiano ha toccato un'astromoppo celeste. Questo è tutto dell'intelligenza nel lavoro della preparazione scientifica italiana. Continuando a seguirci, vi mostreremo le tue smalti immagini provenienti dalla luna. Grazie a tutti! Graduita cosa c'è! Ho ellemoso per la battaglia delle proglie! Paretta della battaglia dei nostri spettatori per la battaglia. Questa è un progetto immagini! Grazie a tutti.